Poker di Rosario Emaiele ti era mai capitato? Che io ricordi credo di no, tante triplette ma questo è il primo poker, almeno che non mettiamo anche del settore giovanile, però credo che la cosa più importante oggi sia stata la vittoria, bella schiacciante, però come dicevo c'è bisogno ancora di lavorare per eliminare quei piccoli disattenzioni che ancora oggi abbiamo commesso. Tra l'altro non sono gol banali, due di testa, uno con una bella triangolazione, una rovesciata, la settimana scorsa ha sforbicciato oggi, insomma Maiele sta facendo vedere di che passo è fatto. Io credo che una delle mie caratteristiche è quella di trovarsi sempre al momento giusto, appunto giusto. Avere dei giocatori, delle qualità tecniche che noi in squadra abbiamo, credo che diventa tutto più semplice. Maiele è una casertana che si prepara poi per la sfida di Casarano, il big match nel migliore dei modi? Ci sono due trasfette veramente difficili, ecco bisogna solo lavorare tantissimo come stiamo facendo e niente, per arrivare a dei risultati importanti bisogna solo lavorare tantissimo come stiamo facendo e con tanta umiltà come si sta facendo e niente, poi pensiamo al Casarano da martedì prossimo.